2 punti i punti ne ha dati i punti i punti i punti i punti Abbracciai a destra, l'uga! 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 Abbracciai a destra! Abbracciai a destra! Abbracciai a destra, l'uga! Abbracciai a destra! Luca, stira la schiena stira io la schiena per infilare l'altro cancio Luca, sul collo e una sottascella stira la schiena per infilare l'altro cancio Luca, fa la presa così stira la schiena agarra la calça 2 minuti 2 minuti, Luca calmo, stira io la schiena è esattamente questo, vai avendo la mano pra fora a mano esquerda venga pra fora che va a estar la pegata pode continuar io Luca, crocia le gambe e stira io la schiena bravo, così, così vai, vai, vira l'altro cancio tira, tira bene la schiena Luca, tira bene la schiena tu, con la tua mano diretta vai a passare il duello di lei pesa lì, pesa lì Luca, tira io la faccia questo angolamento tira io la faccia Luca tira io la faccia Luca non puoi restare la schiena lì non puoi restare la schiena lì pesa lì come deve la tua mano guarda lì Luca, guarda lì stira, stira lì la schiena Luca, Luca fai fin di fare qualcosa e basta Luca Luca Luca, la tua pegata deve continuare facendo qui qua fora e vai fechar la mano qui Luca, Luca in faccia tira lì in faccia tira lì in faccia Luca, 30 secondi, calmo a joelho è in cima no piede lì non, o altro, o altro il tuo joelho esquerdo va a tirar o piede lì il joelho esquerdo tira lì 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 tu vai ficar mola concentra aí mulec João, ai, eu já atirou, deixa eu botrar de novo não vai de��, vai de动 João, tu tá se garantindo,ide bote pro final fica ligado si caído no bote vai te espalha, tu quer dar um bote ja ja E tu vai quebrar il tuo joelho Il joelho è un calcanhar Vai tirare il péio dà lì